Benvenuti a Torino Web News, edizione speciale con questo Twitter che vedete alle mie spalle. Abbiamo dato poche ore fa la notizia del terremoto che ha colpito il Piemonte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato l'orario, ovvero le 14.32, l'ora esatta in cui è stato percepito in maniera netta a Torino, la magnitudo di 4,3 gradi della scala Richter, una profondità di circa 25 km. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Cantalupa, Pinasca, Rubione e Cumbiana, paesi in provincia di Torino. Fortunatamente non ci sono danni a cose e persone, eccetto un'abitazione di Corso Vercelli, dove al numero 79 si è aperta una crepa al momento alla centrale dei Vigili del Fuoco. Non sono stati segnalati altri danni né feriti. Anche ad Aosta è stato percepito il terremoto, anche lì numerose le telefonate alla centrale unica di soccorso regionale, ma per fortuna nessun danno a cose o persone. Alcuni uffici comunali sono stati evacuati, ad esempio Palazzo Civico è stato evacuato anche l'ufficio della Reale Mutua in via Corte d'Appello, così come l'ufficio comunale di Via Meucci, dove le scosse sono state avvertite più forti, soprattutto ai piani alti delle abitazioni e degli uffici. Naturalmente le oscillazioni sono state più percepibili. Ma andiamo a vedere le immagini che ci mostrano come è avvenuto e come si è sviluppato il terremoto. Nella prima immagine vediamo visualizzato l'epicentro del terremoto, come abbiamo detto nella zona sopra Pinerolo, tra i paesini di Cantalupa, Pinasca, Dubione e Cumiana, nella provincia di Torino. La seconda immagine ci mostra invece il livello di pericolosità dell'evento sismico con i colori arancione, giallo e grigio. Abbiamo identificato il livello medio, basso e minimo di pericolosità, come vedete Torino rientra nella zona di livello minimo. La terza immagine ci mostra invece l'accelerazione del suolo durante l'evento sismico. Il colore verde identifica la massima accelerazione del suolo in relazione all'epicentro. Finiamo con un'immagine che ci mostra dove è stato percepito il terremoto. tutte le località, come vedete è stato percepito fino a Milano. Ringraziamo per le immagini l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.